Milady e cavalieri, prendete posto alla tavola rotonda di Reward 2 e benvenuti e benvenute, bentornati e bentornate qui ad una nuova puntata di Harry Potter e l'Ordine della Felice e finalmente torniamo a leggere il nostro buon Harry con il capitolo 23 che è uno dei miei capitoli preferiti di questo libro, come vi ho detto, con il capitolo scorso inizia una serie di capitoli che a me piacciono particolarmente vi chiedo scusa se sentirete un po' di rumore di sottofondo, diciamo così, ma ho aperto la finestra per la mia gattina che ora sta qua e darà fastidio tra 3, 2, 1... no, non è vero i fili! e niente, vabbè e siccome appunto ho aperto per lei, vorrei inquadrarvela se avessi una cam direzionale, ma non ce l'ho vabbè, detto questo, tanto ora apparirà sicuro, farà danno alla scenografia dietro, come sempre la sto temendo, la sto temendo altro che Godzilla e Kong che ora è al cinema e Haru la vera Godzilla e sì, hai ragione quindi sentirete un po' di rumore di sottofondo, quindi perdonatemi per questo, ma fa caldo, fa veramente caldo oggi da me quindi anche la finestra aperta aiuta un attimo a ventilare ma a voi che me frega, giustamente voi siete qua per la lettura di Harry Potter quindi io direi di partire subito rilassatevi, stendetevi stacchiamo il cervello da tutto e rilassiamoci insieme con il capitolo 23 Natale nel reparto riservato era per quello che Silente non lo guardava più negli occhi si aspettava di vedere Voldemort che lo fissava ma forse che il verde intenso diventasse all'improvviso scarlatto e le pupille sottili fessure verticali come quelle di un gatto Harry ricordò come la faccia da rettile di Voldemort una volta era sbucata dalla nuca del professor Raptor e si passò la mano dietro la testa chiedendosi che cosa avrebbe provato se Voldemort fosse spuntato dal suo cranio si sentiva sporco, contaminato come se portasse in sé un germe letale indegno di sedere nella metropolitana di ritorno dell'ospedale insieme a gente pulita e innocente con mente e corpa liberi dall'infezione di Voldemort non aveva solo visto il serpente era lui il serpente ormai lo sapeva un pensiero terribile tornò alla sua mente un ricordo che riaffiorava e che gli fece contorcere le budella che cosa cerca a parte seguaci? cosa che può ottenere solo di nascosto come un'arma? qualcosa che l'ultima volta non aveva io sono l'arma pensò Harry e fu come se nelle vene gli scorresse un veleno che lo raggelava facendolo sudare mentre secondava il dondolio del treno nella galleria buia è me che Voldemort sta cercando di usare ecco perché mi sorvegliano ovunque vada non è per proteggere me ma gli altri solo che non funziona non possono seguirmi dappertutto Hogwarts ho attaccato io il signor Weasley la notte scorsa sono stato io Voldemort mi ha costretto a farlo e ora potrebbe essere dentro di me e ascoltare i miei pensieri stai bene Harry caro? sussurrò la signora Weasley sporgendosi sopra Ginny per parlarli mentre il treno sferragliava non hai un bell'aspetto ti senti male? lo guardavano tutti scosse violentamente il capo e prese a fissare la pubblicità di un'assicurazione caro sei sicuro di star bene? insistè la signora Weasley preoccupata mentre attraversavano la macchia di prato incolto al centro di Grimult Place sei così pallido ma hai riposato questa mattina? adesso vai su e dormi un paio d'ore prima di cena d'accordo? Harry a noi era proprio ciò che voleva un'ottima scusa per non parlare con gli altri così quando lei aprì la porta d'ingresso lui superò il porto ombrelli a gamba di troll e filò dritto di sopra nella stanza che divideva con Ron prese a camminare su e giù davanti ai letti e al ritratto vuoto di Finneas Nigellus con la testa che ribolliva di domande e pensieri ancora più terribili come aveva fatto a diventare un serpente? forse era un animagus? no, non era possibile l'avrebbe saputo forse Voldemort era un animagus sì, pensò Harry così tornava era lui a trasformarsi in un serpente e quando è dentro di me ci trasformiamo tutti e due ma questo non spiega ancora come ho fatto ad andare a Londra e tornare nel letto in giro di cinque minuti del resto Voldemort è uno dei maghi più potenti del mondo a parte Silente per lui non deve essere affatto un problema trasportare la gente in quel modo e poi con un terribile senso di panico penso questa è una follia se sono posseduto da Voldemort in questo momento gli sto dando una visione perfetta del quartier generale dell'ordine della Fenice saprà chi fa parte dell'ordine e dove si trova Sirius e da quando sono qui ho sentito un mucchio di cose che non avrei dovuto sapere tutto quello che Sirius mi ha detto la prima notte quando sono arrivato c'era solo una cosa che doveva fare doveva andare via subito avrebbe passato il Natale a Hogwarts senza gli altri che così sarebbero stati al sicuro almeno per le vacanze ma no non funzionava c'era ancora tanta gente a Hogwarts da mutilare e ferire e se la prossima volta fosse toccata a Simus di Inno o Neville smise di marciare su e giù e fissò la cornice vuota del ritratto di Finne a Senigellus era come se avesse del piombo in fondo allo stomaco non c'erano alternative doveva ritornare a Private Drive separarsi completamente dagli altri maghi beh, se era così si disse non aveva senso aspettare cercando con tutte le forze di non pensare a come avrebbero reagito i Darsley trovandolo sulla soglia di casa sei mesi prima del previsto andò verso il suo baule chiuse il coperchio poi si guardò meccanicamente intorno in cerca di Edwidge prima di ricordare che era ancora Hogwarts beh, una cosa in meno da portare afferrò una maniglia del baule ed era già a metà strada verso la porta quando una voce sprezzante disse ce la battiamo, eh? si voltò Finne a Senigellus era apparsa sulla tela del suo ritratto e stava appoggiato alla cornice guardava Harry con un'espressione divertita no, non me la sto battendo tagliò corto Harry trascinando il baule di qualche altro passo pensavo disse Finne a Senigellus accarezzandosi la barba a punta che per appartenere alla casa di Grifondoro si dovesse essere coraggiosi a me pare che saresti stato meglio nella mia noi di Serpeverde siamo coraggiosi, certo ma non stupidi per esempio se possiamo scegliamo di salvarci la pelle non è la mia pelle che sto salvando rispose gelido Harry trascinando il baule su un punto della moquette particolarmente gibboso e divorato dalle tarme davanti alla porta ah, ho capito replicò Finne a Senigellus sempre accarezzandosi la barba questa non è la fuga di un codardo è un gesto nobile Harry lo ignorò la sua mano era già sulla maniglia quando Finne a Senigellus aggiunse pigramente ho un messaggio per te da Albus Silente Harry si voltò e che cosa dice? resta dove sei non mi sono mosso esclamò Harry con la mano ancora sulla maniglia qual è il messaggio? te l'ho detto stupido rispose dolcemente Finne a Senigellus Silente dice resta dove sei perché? chiese Harry con impazienza lasciando cadere l'estremità del baule perché vuole che resti? che altro ha detto? nient'altro rispose Finne a Senigellus inarcando un sottibile sopracciglio nero come se trovasse Harry impertinente la collera di Harry eruppe come una serpe che si erge dall'erba alta era esausto confuso più che mai nelle ultime dodici ore aveva provato terrore sollievo poi di nuovo terrore e Silente ancora non gli parlava è tutto qui allora? urlò resta dove sei? anche quando sono stato attaccato da quei dissenatori è tutto quello che sono riusciti a dirmi stai buono che gli adulti sistemano tutto Harry non ci prendiamo il disturbo di dirti niente perché il tuo cervello potrebbe non sopportarlo sai? urlò ancora più forte Finne a Senigellus questo è precisamente il motivo per cui insegnare mi faceva schifo voi giovani avete tutta questa convinzione infernale di avere assolutamente ragione su tutto non ti è venuto in mente mio povero damerino tronfio che potrebbe esserci una razione eccellente per cui il preside di Hogwarts non ti rivela ogni dettaglio dei suoi piani? ti sei mai soffermato un istante uomo navigato a pensare che seguire gli ordini di silente non ti ha mai provocato dei danni? no no come tutti i ragazzini sei sicuro di essere il solo a sentire e a pensare a riconoscere il pericolo a essere abbastanza sveglio da capire i piani dello scuro signore quindi ha dei piani su di me replicò rapido Harry ho detto questo disse Phineas Nigellus esaminandosi con aria annoiati i guanti di seta ora se vuoi scusarmi ho cose migliori da fare che dar retta un adolescente in crisi buona giornata raggiunse con calma il bordo della cornice e sparì vattene pure sbraitò Harry contro la cornice vuota e dia silente grazie di nulla la tela restò in silenzio furioso Harry tracinò di nuovo il baule ai piedi del letto poi si gettò a faccia in giù sulle coperte tarmate con gli occhi chiusi e le membra dolorosamente pesanti lì sembrava di aver viaggiato per chilometri e chilometri pareva impossibile che meno di 24 ore prima Cho Chang lì si fosse avvicinata sotto il vischio era così stanco aveva paura di addormentarsi ma non sapeva fino a quando avrebbe potuto combattere il sonno silente gli aveva detto di restare allora voleva dire che poteva dormire ma aveva paura e se fosse successo di nuovo stava sprofondando era come se un film nella sua testa fosse stato in attesa di cominciare camminava lungo un corridoio deserto verso una semplice porta nera costeggiando pareti di pietra grezza torce e una rampa di scala che scendeva sulla sinistra raggiungeva la porta nera ma non riusciva ad aprirla restava a guardarla col disperato desiderio di entrare lì c'era qualcosa che voleva con tutto il cuore un premio al di là dei suoi sogni se solo la cicatrice avesse smesso di bruciare sarebbe riuscito a ragionare più chiaramente allora Harry la voce di Ron lo raggiunse da molto molto lontano la mamma dice che la cena è pronta ma se vuoi restare a letto ti mette qualcosa da parte Harry aprì gli occhi ma Ron era già uscito non vuole restare da solo con me pensò Harry non dopo quello che ha sentito dire da Moody immaginava che nessuno lo volesse più lì ora che sapevano che cosa c'era dentro di lui non sarebbe sceso per cena non voleva imporre la sua presenza agli altri si voltò su un fianco e poco dopo si riaddormentò si svegliò molto più tardi alle prime ore del mattino con lo stomaco indolenzito dalla fame e Ron che russava nel letto accanto sbattendo le palpebre vide la sagoma scura di Phineas Nigellus di nuovo nel suo ritratto e pensò che Silente doveva averlo mandato per sorvegliarlo nel caso che aggredisse qualcun altro la sensazione di essere sporco si acuì desiderò quasi di non aver obbedito a Silente se questa era la vita che lo aspettava Grimald Place d'ora in poi tanto valeva tornare a Private Drive tutti gli altri passarono la mattina successiva ad appendere le decorazioni natalizia Harry non ricordava di aver mai visto Sirius tanto di buon umore cantava addirittura le carole deliziato di avere ospiti per Natale Harry sentiva la sua voce echeggiare attraverso il pavimento nel freddo salotto in cui sedeva da solo e guardare la finestra il cielo che si faceva sempre più bianco annunciando neve e provo un po' di piacere perverso all'idea di dare agli altri la possibilità di parlare di lui cosa che di sicuro stavano facendo quando all'ora di pranzo sentì la signora Weasley che chiamava dolcemente il suo nome su perle scale si ritirò ancora più in alto e la ignorò verso le sedi sera suonarono alla porta e la signora Black ricominciò a urlare immaginando che fosse arrivato Mundungus o qualche altro membro dell'ordine Harry si limitò ad accomodarsi meglio contro la parete della stanza di Fierobecco dove stava nascosto cercando di ignorare i morsi della fame mentre dava da mangiare ai topi morti all'ippogrifo fu un piccolo spavento quando qualcuno bussò alla porta qualche minuto dopo so che sei lì dentro disse la voce di Hermione esci per favore ti voglio parlare e tu che cosa ci fai qui? le chiese a Harry aprendo la porta mentre Fierobecco raspava la paglia sul pavimento in cerca di avanzi di topo non dovevi andare a sciare con i tuoi? beh a dirti la verità lo sci non fa per me rispose Hermione così sono venuto qui a passare il Natale aveva la neve sui capelli e il viso rosso per il freddo ma non dirlo a Ron gli ho detto che sciare è magnifico visto che non smetteva di videre mamma e papà erano un po' contrariati ma ho spiegato che chiunque prenda seriamente gli esami rimane a Hogwarts per studiare vogliono che vada bene mi capiranno comunque disse bruscamente andiamo nella tua stanza la mamma di Ron ha acceso il fuoco e ha mandato su dei panini Harry la seguì al secondo piano quando entrò nella stanza fu piuttosto sorpreso di trovare Ginny e Ron ad aspettarlo seduti sul letto di Ron sono venuta con il nottetempo riprese Hermione in tono leggero sfilandosi la giacca prima che Harry avesse il tempo di parlare ieri mattina Silente mi ha raccontato quello che è successo ma ho dovuto per forza aspettare la fine ufficiale delle lezioni per partire l'Humbridge è già livida perché voi le siete scomparsi sotto il naso anche se Silente le ha detto che il signor Weasley era al San Mungo e che aveva dato il permesso di andare a trovarlo allora si sedette accanto a Ginny e tutti e tre guardarono Harry come ti senti? chiese Hermione bene rispose Harry rigido oh non mentire Harry si spazienti in lei Ron e Ginny dicono che ti stai nascondendo da tutti da quando siete tornati dal San Mungo ah dicono così? ribatte Harry scoccando un'occhiata torva a Ron e Ginny Ron si guardò i piedi ma Ginny non parve affatto imbarazzata beh è vero sbottò e non ci guardi nemmeno in faccia siete voi che non guardate in faccia a me ribatte Harry con rabbia forse vi guardavate a turno senza incrociarvi mai Hermione accennò un sorriso molto spiritosa commentò Harry rivoltandole le spalle oh piantala di fare l'incompreso disse Hermione tagliente ascolta mi hanno raccontato quello che hai sentito la notte scorsa con le orecchie oblunghe ah sì? ringhiò Harry affondando le mani nelle tasche e guardando la neve che ora cadeva fitta tutti a parlare di me eh? tanto mi sto abituando noi volevamo parlare con te Harry obiettò Ginny ma tu ti nascondi da quando siamo tornati non volevo parlare con nessuno rispose Harry punto sul vivo beh sei stato proprio stupido replicò Ginny arrabbiata visto che io sono l'unica persona che conosci che è stata posseduta da tutti i sechi e posso dirti che cosa si prova Harry rimase immobile ad assorbire l'impatto di quelle parole poi si voltò l'avevo dimenticato beato te mormorò freddamente Ginny mi dispiace disse Harry sincero quindi quindi secondo te non sono posseduto ricordi tutto quello che hai fatto? domandò Ginny ci sono momenti di vuoto in cui non sai che cosa hai fatto? Harry riflettè no allora tu sei chi non ti ha mai posseduto concluse Ginny con semplicità io avevo dei buchi di ore intere di cui non ricordavo nulla mi trovavo in qualche posto e non sapevo come c'era arrivata Harry non osava crederle eppure sentì il cuore sollevarsi quasi suo malgrado quel sogno su tuo padre e il serpente però Harry tu hai già fatto sogni del genere in passato intervenne Hermione hai visto che cosa faceva Voldemort già l'anno scorso ma questo è stato diverso obiettò Harry scuotendo il capo ero dentro al serpente era come se fossi io il serpente e se Voldemort mi avesse trasportato in qualche modo fino a Londra un giorno disse Hermione esasperata leggerai storia di Hogwarts e forse ti ricorderai che non ci si può materializzare o smaterializzare nella scuola nemmeno Voldemort avrebbe potuto farti volare via dal tuo dormitorio non hai mai lasciato il tuo letto Harry disse Ron ti ho visto agitarti nel sonno per almeno un minuto prima che riuscissimo a svegliarti Harry presa a passeggiare su e giù per la stanza riflettendo quello che stavano dicendo non era solo confortante ma aveva anche senso quasi senza accorgersene prese un panino dal vassoio sul letto e se lo ficcò in bocca famelico non sono io l'arma allora pensò il cuore li si riempì di gioia e sollievo e li venne voglia di unirsi a Sirius che passando davanti alla loro porta per andare dall'iprogifo cantava a squarciagola tu scendi dalle stelle oh fiero becco ma come era potuto venirli in mente di tornare a private drive per Natale la gioia di Sirius nell'avere di nuovo la casa piena e soprattutto nel riavere Harry era contagiosa non era più imbronciato come l'estate passata pareva deciso a far in modo che tutti si divertissero quanto Hogwarts se non di più e trascorse i giorni prima di Natale a purire e decolare senza sosta con l'aiuto di tutti così che quando andarono a dormire la sera della vigilia la casa era stento riconoscibile i lampadari anneriti non erano più carichi di ragnatele ma di ghirlande di agrifoglio e festoni d'oro e d'argento mucchi di neve magica scintillavano sui tappeti lisi un grande albero di Natale procurato da mundungus e addobbato con fate vive nascondeva l'albero genealogico di Sirius e persino le teste d'elfo imbalsamate sulle pareti portavano barbe e cappelli da babbo Natale la mattina di Natale al suo risveglio Harry trovò una pila di regali ai piedi del letto Ron aveva già scartato metà della sua pila decisamente più nutrita bel bottino quest'anno lo informò da dietro una nuvola di carta grazie per la bussola da scopa è stupenda meglio del pianificatore di compiti di Hermione Harry cercò tre sui regali e ne trovò uno con la carigrafia di Hermione anche a lui aveva regalato un libro che somigliava a un diario ma quando lo si apriva diceva cose come non rimandare a domani quello che puoi fare oggi Sirius e Lupin avevano donato a Harry una bellissima serie di libri dal titolo magia difensiva pratica come usarla contro le arti oscure che contenevano splendide illustrazioni animate a colori di tutte le controfatture e dei sortileggi descritti Harry sfogliò avidamente il primo volume e vide subito che gli sarebbe stato utilissimo nei suoi programmi per le S Hagrid gli aveva mandato un portamonete marrone peloso e dotato di zanne che Harry presumeva dovesse fungere da dispositivo antifurto ma che purtroppo impedivano di metterci dentro i soldi a meno che di farsi amputare le dita il regalo di Tonks era un modellino perfettamente funzionante di Firebolt che Harry guardò volare per la stanza desiderando di riavere la sua Ron gli aveva regalato una scatola enorme di gelatine tutti gusti più uno i signori Weasley il solito maglione fatto a mano e dei pasticci di carne e Dobby un quadro davvero agghiacciante che Harry sospettava avesse dipinto lui stesso l'aveva appena girato a testa in giù per vedere se migliorava quando con un sonoro crack Fred e George si materializzarono ai piedi del suo letto buon Natale disse George non scendete per un po' perché? chiese Ron la mamma piange di nuovo spiegò Fred in tono grave Percy ha rimandato indietro il maglione di Natale abbiamo cercato di consolarla continuò Fred facendo il giro del letto senza guardare il quadro di Harry le abbiamo detto che Percy è solo un enorme mucchio di cacchie e di ratto non ha funzionato concluse George prendendo una cioccorana così è arrivato Lupin è meglio che gli lasciamo il tempo di tirarla un po' su prima di scendere per la colazione ma che cosa dovrebbe essere? domandò Fred guardando il dipinto di Dobby con la fronte aggrottata sembra un gibbone con gli occhi pesti è Harry disse George indicando il reto del quadro c'è scritto dietro molto somigliante commentò Fred con un sorriso Harry gli scagliò addosso il suo nuovo diario che colpì la parete di fronte e cadde a terra canticchiando se hai messo i puntini sulle i e i trattini sulle t puoi uscire di qui si alzarono e si vestirono per la casa si sentivano varie voci che si scambiavano gli auguri mentre scendevano le scale incontrarono Ernione grazie per il libro Harry disse Allegra desideravo nuova numerologia da una vita e quel profumo è davvero particolare grazie Ron non c'è di chi è rispose Ron e quello per chi è invece aggiunse indicando il pacchetto incartato con cura che lei aveva in mano creature rispose Ernione raggiante non deve avere vestiti la monì Ron ricorda di quello che ha detto Sirius creature sa troppe cose non possiamo liberarlo non sono vestiti disse Ernione per quanto se potessi fare a modo mio avrebbe qualcos'altro da indossare al posto di quel vecchio straccio no è una coperta patchwork ho pensato che potessero allegrare la sua stanza da letto qual è stanza da letto chiese Harry riducendo la voce a un sussurro perché stavano passando davanti al ritratto della madre di Sirius beh Sirius dice che non è proprio una stanza da letto è più una specie di tana rispose Ernione a quanto pare dorme sotto lo scaldabagno in quell'armadio in cucina la signora Weasley era sola nel seminterrato era in piedi davanti ai fornelli e quando augurò il loro buon natale sembrava che avesse un brutto raffreddore tutti dissolsero lo sguardo allora è questa la stanza di Kreacher chiese Ron avvicinandosi a una porta sudicia di fronte alla dispensa Harry non l'aveva mai vista aperta sì rispose Ernione un po' nervosa io credo che dovremmo bussare Ron bussò ma non ricevette risposta deve essere sgattaiolato da qualche parte di sopra disse e senza perdere altro tempo aprì la porta Harry sbirciò dentro l'armadio era occupato da un grosso e antico scaldabagno ma nello spazio sotto i tubi Kreacher si era creata una specie di nido un groviglio di stracce vecchie coperte puzzolenti era ammucchiato sul pavimento e un piccolo incavo mostrava il punto in cui Kreacher si accembellava ogni notte qua e là c'erano croste di pane raffermo e vecchi pezzi ammuffiti di formaggio in un angolo brillavano piccoli oggetti e monete che Kreacher immaginò Harry aveva salvato come fanno le gazze dalla gran pulizia di Sirius era anche riuscito a recuperare le foto di famiglie incorniciate d'argento che Sirius aveva gettato via in estate i vetri erano rotti ma le piccole figure in bianco e nero lo guardavano ancora con arroganza compresa Harry sentì una piccola fitta allo stomaco la donna scura dalle palpebre pesanti che aveva visto processare nel pensatoio di Silente Bellatrix Lestrange a quanto pareva la sua era la foto preferita di Kreacher l'aveva messa davanti alle altre e aveva aggiustato al meglio il vetro con il magiscotch lascia il regalo qui decise Hermione posando con cura il pacchetto nell'incavo delle coperte e chiudendo piano la porta lo troverà dopo va bene così ora che ci penso disse Sirius sbucando dalla dispensa con un grosso tacchino fra le braccia qualcuno ha visto Kreacher ultimamente non lo vedo dalla notte in cui siamo tornati qui rispose Harry gli avevi ordinato di uscire dalla cucina sì disse Sirius accigliato sai credo che sia l'ultima volta che l'ho visto anch'io deve essersi nascosto da qualche parte di sopra non può essersene andato vero chiese Harry voglio dire quando ho detto fuori potrebbe aver pensato che intendessi fuori di casa no 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 gli elfi domestici non se ne possono andare a meno che non vengano regalati i loro dei vestiti sono legati alla casa di famiglia rispose Sirius possono uscire di casa se lo desiderano davvero lo contraddisse Harry Dobby l'ha fatto ha lasciato i malfoi per venire a mettermi in guardia tre anni fa dopo ha dovuto punirsi ma l'ha fatto per un attimo Sirius parve turbato poi disse lo cercherò più tardi magari è su a piangere tutte le lacrime sui vecchi mutandoni di mia madre o qualcosa del genere certo potrebbe essere sempre strisciato nello stanzino delle scope ed essere morto lì ma non voglio essere troppo ottimista Fred George Ron risero Hermione lo guardò male finito il pranzo i Weasley avevano in programma di andare con Harry e Hermione a trovare di nuovo il signor Weasley scortati da Malocchio e Lupin Mundungus arrivò in tempo per il dolce dopo essere riuscito a prendere in prestito un'auto visto che la metropolitana non funzionava a Natale l'auto che Harry dubitava fosse stata presa con il consenso del proprietario era stata ingrandita con un incantesimo simile a quello operato una volta sulla Ford Anglia dei Weasley anche se fuori era di proporzione normali dieci persone più Mundungus alla guida ci stavano abbastanza comune la signora Weasley esitò prima di salire a bordo Harry sapeva che la sua disapprovazione per Mundungus stava lottando contro l'antipatia per i viaggi non magici ma alla fine il freddo e l'insistenza dei figli ebbero la meglio e si sistemò di buon grazia sul sedile posteriore tra Fred e Bill il viaggio fino al San Mungo fu piuttosto veloce dato che c'era poco traffico un piccolo gruppo di streghe e maghi avanzava furtivo verso l'ospedale nella strada altrimenti deserta Harry e gli altri scesero dall'auto e Mundungus svoltò dietro l'angolo per aspettarli si avviarono disinvolti verso la vetrina con il manichino vestito di nylon verde poi uno a uno entrarono attraverso il vetro la cittazione aveva un'aria piacevolmente festosa i globi di cristallo erano stati colorati di rosso e oro per trasformarli in gigantesche decorazioni natalizie l'agrifoglio era appeso ogni porta e in ciascun angolo scintillava un ambero di natale candido coperto di neve e ghiaccioni magici e sormontato da una luminosa stella d'oro la sala era meno affollata dell'ultima volta anche se a un certo punto Harry fu spinto da parte da una strega con un mandarino nella narice sinistra vita in famiglia soghignò la strega bionda dietro la scrivania è la terza che vedo oggi le giorni di incantesimo quarto piano trovarono il signor Weasley seduto a letto con i resti della porzione di tacchino su un vassoio posato in grembo e un'espressione piuttosto imbarazzata tutto bene Arthur li chiese la signora Weasley dopo che tutti li ebbero salutato e gli ebbero consegnato i regali bene bene rispose il signor Weasley con un entusiasmo un po' eccessivo tu ehm non hai visto il guaritore Smetwick vero? no disse sospetto a sua moglie perché? niente niente fece il signor Weasley con non curanza cominciando a scartare la sua pila di doni avete avuto una buona giornata? cosa avete ricevuto per Natale? oh Harry è assolutamente magnifico aveva appena aperto il regalo di Harry una serie diffusibile di cacciavite la signora Weasley non era soddisfatta della risposta del marito quando lui si sporse in avanti per stringere la mano a Harry lei sbirciò le bende sotto la camicia da notte Arthur la sua voce scattò secca come una trappola per topi ti hanno cambiato le bende? come mai le hanno cambiato un giorno prima? a me avevano detto che l'avrebbero fatto domani cosa? balbettò il signor Weasley allarmato tirandosi le coperte sul petto no 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 non è niente è che io parve sgonfiarsi sotto lo sguardo perforante di sua moglie ecco ora non ti arrabbiare Molly ma Augustus Spy ha avuto un'idea il guaritore di ragionante sai un ragazzo simpatico è molto interessato alle medicine complementari insomma ai vecchi rimedi babani ecco si chiamano punti di sutura Molly funzionano molto bene sulle ferite babane la signora Weasley mise un suono minaccioso a metà tra un grido e un ringhio Lupin si allontanò dal letto e andò dal lupo Mannaro che non aveva visitatori e guardava malinconi con la folla attorno al signor Weasley Bill mormorò qualcosa su una tazza di tè e Fred e George si precipitarono a seguirlo sorridendo stai cercando di dirmi? abbaiò la signora Weasley sempre più forte apparentemente ignara della fuga dei suoi accompagnatori che ti sei messo a pasticciare con i rimedi babani non a pasticciare molli cara la corresse il signor Weasley supplichevole era solo solo una cosa che pai e io abbiamo pensato di provare solo che purtroppo ecco con queste ferite non sembra funzionare come speravamo sarebbe a dire ecco non so se sai cosa cosa sono i punti di sutura si direbbe che tu abbia cercato di ricucire insieme la pelle disse la signora Weasley con una risata priva di allegria ma nemmeno tu Arthur potresti essere tanto stupido anche io voglio di una tazza di tè annunciò Harry balzando in piedi Hermione Ron e Ginny schizzarono verso la porta con lui mentre la chiudevano sentirono la signora Weasley urlare che cosa vuol dire l'idea è più o meno quella tipico di papà commentò Ginny scuotendo il capo mentre si avviavano lungo il corridoio punti di sutura ma dico io beh sai sulle ferite non magiche funzionano bene osservò Hermione immagino però che in quel veleno di serpente ci sia qualcosa che li scioglie dove sarà la sala da te quinto piano disse Harry ricordando il cartello dietro il banco informazioni oltrepassarono una porta a due battenti e trovarono una scricchiolante rampa di scale decorata con altri ritratti di guaritori dall'aria feroce mentre salivano vari guaritori rivolse loro le parole inossicando strani disturbi e suggerendo orribili rimedi Ron si offese sul serio quando un mago medievale gli annunciò che sicuramente aveva una grave forma di spruzzolosi e che cosa sarebbe domandò furioso quando il guaritore lo inseguì per sei ritratti spingendo da parte gli occupanti è una terribile affezione della pelle mio giovane mostro che ti lascerà butterato e ancora più raccapricciante di quanto tu già non sia raccapricciante a chi sbottò Ron le orecchie paonazze l'unico rimedio è prendere il fegato di un rospo legartelo stretto attorno alla gola e stare nudo in un barile di occhi di anguilla durante una notte di luna io non ho la spruzzolosi ma le sgradevoli macchie sul tuo viso giovin signore sono lentigini urlò Ron fuoribondo tornate nel tuo ritratto e lasciami in pace si voltò verso gli altri che si sforzarono di restare seri che piano è questo credo il quinto disse Hermione no è il quarto la corresse Harry ancora uno ma non appena mise piede sul pianerottolo si fermò di botto fissando il vetro delle doppie porte che conducevano al reparto lesioni da incantesimo un uomo li guardava con il naso premuto contro il vetro aveva capelli biondi e ondulati occhi azzurri acceso e un ampio sorriso vacuo che scopriva denti bianchissimi accidenti fece Ron guardandola anche lui oh cielo esclamò Hermione quasi senza fiato professor Hallock l'ex insegnante di difesa contro le orti oscure di Hogwarts aprì le porte e avanzò verso di loro indossava una lunga vestaglia lilla oh salve disse immagino che vogliate il mio autografo vero? non è cambiato molto eh mormorò Harry a Ginny che sorrise ehm come sta professore? chiese Ron con un vago senso di colpa era stata la bacchietta difettosa di Ron a danneggiare la memoria del professor Hallock al punto da farlo ricoverare al sammungo visto che però in quell'occasione Hallock stava cercando di cancellare in modo permanente la memoria di Harry e di Ron la solidarietà di Harry era molto moderata adesso molto bene grazie grazie esclamò Hallock esuberante estraendo dalla tasca una piuma di pavone piuttosto malconcia quante autografi volete? adesso so scrivere bene anche le lettere attaccate sapete? e al momento non li vogliamo grazie rispose Ron rivolgendo uno sguardo perplesso a Harry che chiese professore il permesso di andare in giro per i corridoi non dovrebbe restare in corsia? il sorriso svanì lentamente dal viso di Hallock per qualche secondo fisso Harry poi chiese ma noi ci conosciamo? ehm sì rispose Harry lei insegnava nella nostra classe Hogwarts ricorda? insegnavo? ripetè Hallock un po' spiazzato chi? io? poi il sorriso riapparve sul suo volto così repentino da risultare inquietante vi ho insegnato tutto quel che sapete immagino beh che ne dite di quegli autografi adesso ne facciamo una bella decina così li potete dare a tutti i vostri amichetti e nessuno rimane senza ma a quel momento una testa si affacciò da una porta in fondo al corridoio e una voce cinguettò Gilderoy ragazzaccio dove ti sei cacciato? una guaritrice dall'aria materna con un cerchetto di lame nei capelli venne loro incontro lungo il corridoio sorridendo con calore a Harry e agli altri oh Gilderoy hai visite che carino è proprio il giorno di Natale sapete non riceve mai visite povero agnellino e non capisco proprio perché è un tale tesoro non è vero? stiamo facendo gli autografi disse Gilderoy alla guaritrice con un altro smagliante sorriso ne vogliono un mucchio sono irremovibili spero solo di avere abbastanza fotografie sentitelo esclamò la guaritrice prendendolo per un braccio e guardandolo raggiante come se fosse stato un bambino di due anni molto precoce era piuttosto famoso qualche anno fa noi ci auguriamo davvero che questa fissa per gli autografi sia un segno che la sua memoria sta cominciando a tornare venite da questa parte è in un reparto riservato deve essere sgattoglialato fuori mentre distribuivo i regali di Natale la porta di solito è chiusa a chiave non che sia pericoloso ma vedete proseguì con un sussurro è un po' pericoloso per se stesso povero caro non ricorda chi è si allontana e non sa più come tornare siete stati molto carini a venire a trovarlo ehm fece Ron accennando in vano al piano di sopra in realtà noi stavamo ehm ma la guerritrice sorrideva speranzosa e il borbottio di Ron sfumò nel nulla si scambiarono uno sguardo disarmato poi seguirono Allok e la sua guerritrice lungo il corridoio non ci fermiamo molto disse Ron a bassa voce la guerritrice puntò la bacchietta verso la porta del reparto Iannus Striquei e mormorò Allomora la porta si aprì e lei li precedetta all'interno mantenendo una presa ben salda sul braccio di Gilderoy finché non l'ebbe sistemato su una poltrona accanto al letto questo è il nostro reparto lungo dei genti vi sbigliò i ragazzi per lesioni permanenti da incantesimo sapete naturalmente con trattamenti intensivi di pozioni e incanti e un pizzico di fortuna possiamo ottenere un miglioramento Gilderoy sembra aver recuperato un po' di coscienza di sé e il signor Bod sta facendo grandi progressi sembrava che abbia preso a parlare anche se ancora in lingue non comprensibili ora devo finire di distribuire regali vi lascio a chiacchierare Harry si guardò intorno il reparto aveva le caratteristiche inequivocabili della degenza permanente i pazienti avevano molti più oggetti personali che nel reparto del signor Weasley le pareti dietro il letto di Gilderoy per esempio era rivestita di sue foto che sorridevano radiose e salutavano i nuovi arrivati ne aveva firmate parecchie con una grafia slegata e infantile non appena la guaritrice l'ebbe sistemato sulla poltrona Gilderoy trassa a sé una nuova pila di fotografie afferrando una piuma e cominciò ad fotografarle tutte in modo febbrile puoi metterle tu nelle buste disse a Ginny gettandole in grembo le foto firmate una dopo l'altra non mi hanno dimenticato no ricevo ancora una gran cantità di lettere dai fan Gladys Gundon scrive tutte le settimane vorrei solo sapere perché si interruppe un po' perplesso poi sorrise di nuovo e riprese a firmare con rinnovato vigore immagino che sia per via del mio bell'aspetto un mago con l'aria lugubre e il viso olivastro gioceva nel letto di fronte fissava il soffitto murmurando fra sé e non pareva accorgersi di nulla due letti più in là c'era una donna con la testa completamente coperta di pelliccia Harry ricordò che una cosa simile era successa a Hermione al secondo anno ma per fortuna nel suo caso il danno era stato temporaneo attorno a due letti in fondo alla stanza erano state tirate delle tendine a fiori per offrire un po' di intimità agli occupanti e ai loro visitatori ecco qua Agnes disse allegra la guaritrice alla donna pelosa porgendole una piccola pila di regali di natale vedi non ti so non ti hanno dimenticato e tuo figlio ha mandato un gufo per dire che ti verrà a trovare stasera carino no? Agnes abbaiò a lungo e tu Broderick ti hanno mandato una piantina e un bel calendario con un iprogrifo diverso per ogni mese rallegrano l'ambiente non ti pare? disse la guaritrice all'uomo che mormorava posando sul comodino una pianta piuttosto brutta con lunghi tentacoli ondeggianti e fissando il calendario alla parete con un colpo di bacchietta e oh signora Pachock va già via? Harry si voltò le tendine in fondo alla stanza si erano aperte due visitatori si allontanavano lungo il corridoio tra i letti un'anziana strega dall'aspetto formidabile con un lungo abito verde una pelliccia di volpe tarmata e un cappello a punta adorno di quello che era senza dubbio un avvoltoio impagliato e dietro di lei con aria immensamente depressa Neville in un lampo Harry capì chi doveva essere cinque e due letti si guardò disperatamente intorno alla ricerca di qualcosa che distresse gli altri in modo che Neville potesse uscire senza essere notato e senza dover dar spiegazioni ma anche Ron si era voltato al suono di Pachock e prima che Harry potesse fermarlo gridò Neville Neville trasalì e si strinse nelle spalle come se un proiettile l'avesse appena mancato siamo noi Neville esclamò Ron allegro alzandosi hai visto c'è Allok tu chi sei venuto a trovare sono tuoi amici Neville caro li chiese la nonna con una con grazia avanzando rapida verso di loro Neville aveva l'aria di uno che avrebbe preferito essere in qualsiasi altro posto un rossore violaceo si diffuse sul suo viso paffuto mentre cercava di evitare i loro sguardi ah si disse sua nonna guardando attentamente Harry e porgendogli una mano rugosa simile a un artiglio si si so chi sei Neville parla sempre di te con grandissima ammirazione ehm grazie mormorò Harry stringendole la mano Neville non lo guardò e continuò a fissarsi i piedi sempre più rosso e voi due siete chiaramente dei Weasley proseguì la signora Pajok tendendo con gesto regale la destra a Ron e poi a Ginny conosco i vostri genitori non bene naturalmente però è brava gente davvero brava e tu devi essere Hermione Granger vero? Hermione parve piuttosto sorpresa che la signora Pajok conoscesse il suo nome ma le strinse comunque la mano si Neville mi ha raccontato tutto di voi lo avete aiutato in un paio di situazioni spinose vero? è un bravo ragazzo proseguì lanciando al nipote uno sguardo severo da sopra il naso assuto ma non ha il talento di suo padre temo gli accennò i due letti in fondo facendo tremare l'avvoltoio impagliato in maniera allarmante che cosa? disse Ron sbalordito Harry voleva pestargli un piede ma è difficile far passare inosservato una cosa del genere quando si portavano i jeans invece della veste da mago c'è tuo padre laggiù Neville che cosa significa? chiese la signora Pajok in tono tagliente non hai raccontato dei due genitori agli amici Neville? Neville respirò a fondo guardò il soffitto e scosse il capo Harry non ricordava di essersi mai sentito tanto dispiaciuto per qualcuno ma non riusciva a pensare a nulla che potesse trarre in salvo Neville da quella situazione non c'è niente di cui vergognarsi si addirò la signora Pajok tu dovresti essere orgoglioso Neville orgoglioso non hanno sacrificato la loro salute mentale perché il loro unico figlio si debba vergognare di loro sai? io non mi vergogno mormorò Neville sempre guardando qualunque cosa tra Harry e gli altri Ron si era alzato in punta di piedi per sbirciare nei due letti in fondo beh ma è uno strano modo di dimostrarlo ribatte la signora Pajok mio figlio e sua moglie spiegò Altera sono stati portati alla pazzia dai seguaci di voi sapete chi Hermione e Ginny si portarono le mani alla bocca Ron smise di tendere il collo per vedere i genitori di Neville e prese un'aria mortificata erano Auror sapete molto rispettati nella comunità dei maghi proseguì la signora Pajok molto dotati entrambi io si e l'Iscarra che cosa c'è la madre di Neville veniva verso di loro furtiva non aveva più il viso tondo e allegro che Harry aveva visto nella vecchia foto del primo ordine della Fenicia che le aveva mostrato Moody era magra e sciupata gli occhi sembravano enormi e i capelli che erano diventati bianchi ricadevano in ciocchie stoppose non sembrava che volesse parlare o forse non poteva ma fece dei timidi gesti verso Neville porgendoli qualcosa nella mano tesa ancora? disse la signora Pajok in tono un po' stanco molto bene Eliscara molto bene prendilo Neville qualunque cosa sia ma Neville aveva già teso le mani in cui sua madre mise un incarto vuoto di gomma bolle e bollenti molto gentile tesoro disse la nonna di Neville con finta allegria battendo appena sulla spalla della nuora ma Neville mormorò grazie mamma sua madre si allontanò lungo la corsia canticchiando tra sé Neville guardò gli altri con espressione spavalda come sfidandoli a ridere Harry non credeva di aver mai avuto meno voglia di ridere in tutta la sua vita beh sarà meglio andare sospirò la signora Pajok infilandosi lunghi guanti verdi sono davvero lieta di avervi conosciuto Neville butta quella carta nel cestino con tutte quelle che ti ha dato potresti tappezzarci la stanza ma mentre si allontanavano Harry fu sicuro di aver visto Neville di infilarsi la carta della gomma in tasca la porta si chiusa alle loro spalle non lo sapevo disse Hermione con gli occhi lucidi nemmeno io disse Ron Cupo e io neppure sussurro a Gigni tutti guardarono Harry io sì mormorò lui Cupo me l'ha detto Silente ma avevo promesso di non parlarne con nessuno è per questo che Bellatrix l'estrange è finita da Scaban ho usato la maledizione Cruciatus sui genitori di Neville finché non hanno perso la ragione è stata Bellatrix l'estrange vi sbigliò Hermione agghiacciata la donna di cui Kreacher tiene la foto nella sua tana ci fu un lungo silenzio rotto dalla voce furiosa di Hallok sentite io non ho mica imparato a scrivere tutto toccato per niente e finisce qui il capitolo 23 che è che è un capitolo molto molto bello e che è è toccante a me tocca tantissimo sto capitolo però andiamo per ordine perché ci sono tanti tanti argomenti di discussione il primo è all'inizio del capitolo vediamo lo stato in cui versa Harry a livello psicologico Harry è devastato pensa che Voldemort l'abbia l'abbia posseduto e ha paura ha paura di ferire gli altri ha paura di dare informazioni a Voldemort e guardate qui esce veramente il grifondoro che è lui il coraggio il fare una cosa il sacrificarsi l'allontanarsi volontariamente per non far da male agli altri fino a Sinigellus lo stuzzica ma è vero Harry sta dimostrando di essere una persona altruista coraggiosa ed emerge ancora di più un altro lato del carattere di Harry nel quinto libro escono tante sfaccettature del nostro protagonista ed Harry lo dimostra lo dimostra ancora una volta che gli altri vengono prima di se stesso nonostante Harry sia un po' fumantino e lo vediamo dopo quando urla quando urla contro contro Phineas stesso e anche Phineas poi litiga con lui ma anche quando urla nei confronti dei suoi amici e dice oh vi piace spallare alle mie spalle quindi Harry ha dei difetti e dei pregi un suo difetto è che se ne va subito di testa un pregio invece è il fatto di pensare sempre agli altri prima di se stesso di essere molto coraggioso di sapere affrontare quelli che sono i problemi della vita è molto bello è molto bello vedere tutte queste sfaccettature nella stessa persona nello stesso personaggio perché lo rende reale come noi noi abbiamo difetti e pregi anche noi abbiamo due lati della medaglia quella bella e luminosa e quella un po' brutta che tendiamo a nascondere agli altri ma che emerge perché i nostri difetti ovviamente emergono con le persone che ci conoscono e il fatto che ci vogliono bene comunque nonostante i nostri difetti vuol dire tanto vuol dire tanto vuol dire che quelle persone sono le persone giuste da tenere nella vostra vita ed è bello anche a mio parere il fatto che Harry si isoli completamente e la persona che riesce a tirarlo fuori da questa cosa è Hermione ci fa capire ancora una volta miei cari miledi e cavalieri i ruoli che hanno Ron ed Hermione all'interno dell'equilibrio che si è creato in questo trio dove Ron è quello che aiuta Harry soprattutto ad alleggerire la tensione ad affrontare in maniera più leggera quello che che capita Hermione è quella che a volte invece prende la palla in balzo la situazione tra le mani e riporta tutti nei binari e senza loro due Harry sarebbe perso è un equilibrio perfetto è bellissimo come il trio veramente si completi a vicenda in questo caso Hermione arriva dice a Harry oh e scendi ed è bello anche vedere che Ron è un po' dimesso nei confronti perché Ron quando è riarrabbiato tende un pochino a trattenersi mentre Ginny proprio Ginny è veramente ecco e qui sorge una grandissima differenza rispetto alla Ginny cinematografica perché la Ginny cinematografica è è morta caratterialmente cioè nel senso è molto scialba caratterialmente non sto parlando dell'attrice attenzione è del personaggio portato sullo schermo però è senza mordente senza niente invece la Ginny dei libri avete visto? la Ginny dei libri quando Harry dice eh mi piace sparlare e quello dice oh ascemo proprio così che noi volevamo parlare con te non di te per sparlare Ginny lo affronta a muso duro e gli dice bravo complimenti bravo bravo l'unica cosa intelligente che potevi fare era chiedere a me perché io sono stata impossessata da volte ma te so cosa vuol dire non tu e tu cosa fai? fai l'eroe tragico ti metti sul soffitto con fiero becco parla con me che avresti risolto subito le cose bella dura a muso duro una donna con la D maiuscola con un carattere bello forte Ginny e qui c'è una differenza enorme sfido chiunque a dirmi che la Ginny dei film è uguale a quella dei libri al di là dell'aspetto fisico veramente che non voglio discutere di queste cose becere perché non c'entra niente perché nel libro viene descritta in una maniera bellissima però non è questo non è veramente questo è proprio a livello caratteriale la Ginny dei film non è la Ginny dei libri assolutamente è uno dei personaggi che più di tutti esce male sul grande schermo perché Ginny è veramente cazzuta passatemi il termine è veramente una che è tosta è tosta Ginny è tostissima e si fa mettere non si fa mettere i piedi in testa non è remissiva cioè quando delle cose le deve dire le dice quando delle cose le deve affrontare le affronta ed è molto bello ed è molto bello come rende reale appunto tutta la situazione no Henry che è devastato dentro ma facendolo ragionare poi ritorna e dice ah è vero forse hanno ragione e rinizia a godersi il Natale molto bello anche Sirius ovviamente non sto facendo i paragoni col film per le scene perché tutto questo tutto quello che abbiamo appena letto nel film non esiste ok mi mettono delle scene idiote come le S che cerca di sgattaiolare da Gaza oh ridiamo Gaza sta davanti e loro escono da dietro che bello e poi non mettono le scene importanti della storia non tanto per la trama perché per carità saltare questo capitolo a livello di trama beh no c'è un piccolo dettaglio che a livello di macro trama è importantissimo però è uno spoiler però voi che lo sapete l'avete capito però niente spoiler quello ci doveva essere però va bene però se tagli il Samungo se tagli tutta la parte di Harry di trama non perdi nulla ma perdi tutto della caratterizzazione di questi personaggi perdi tutto nel far capire a me spettatore di quello che si sta di quello che si stanno vivendo i personaggi che io vedo su schermo e Sirius è felice Sirius l'abbiamo visto depresso praticamente sempre in musonito che sta anche usando un po' di alcol in realtà lo dice quando non mi ricordo in quel capitolo preciso ma lo diceva in un capitolo precedente e invece ma è felice è felicissimo di avere gente a Natale immaginate quanto si sente solo Sirius in questo momento e immaginate quante persone vivono questa situazione nella realtà che sia solitudine come quella di Sirius o sia perché sono malati vedete è molto bello il Samungo a me piace tanto come capitolo perché ci porta poi agli occhi una realtà che a volte ignoriamo tanto ci sono tantissime persone malate e e non di una cosa passeggera ma di una cosa appunto fissa che vivono le feste ma non solo le feste in realtà quasi tutte le giornate da soli e la guaritrice è molto carina dice ah vedi sta per venire a trovarti oppure hai visto che è carino il calendare con gli ipogrivi cerca di tirare su il morale ma sono persone sole sono persone sole quante persone anche che conosciamo personalmente che magari non andiamo a trovare noi passano da sole la maggior parte del tempo perché una malattia a volte così no cioè fissa debilitante ti toglie tanto della tua vita non solo della salute ma proprio della tua vita ed è bello è un bello spunto di riflessione che dà il capitolo secondo me su cui dovremmo soffermarci tutti me in primis me in primis ed è anche bellissimo bellissimo come tratta il tema anche dalla parte dei familiari perché la scena di Neville è straziante ed è assurdo veramente io non capisco perché non metterla nel film e perché non riuscire a trovare cinque minuti per dedicare a questa cosa perché è importante per il personaggio di Neville per farcelo capire a fondo perché Neville l'avete notato sta avendo una crescita importantissima in questo libro questo libro è il punto di svolta di Neville Neville prima di questo libro era appunto molto impacciato che si limitava tanto perché le capacità Neville ce le ha ma lui non crede in se stesso nel quinto libro avete visto come tramite le S tramite le esercitazioni con Harry lui stia iniziando ad imparare qualcosa e prende sicurezza in se stesso e anche in questo episodio lui li guarda li sfida dice dai ridete ridete però è ovvio che Harry, Ron Hermione e Ginny hanno una sensibilità che non avrebbero veramente mai riso in faccia a questa cosa ma solo le persone veramente senza cuore possono ridere di una situazione del genere però è importante per farci capire veramente Neville e ora capiamo perché Neville sta partecipando alle S perché vuole prepararsi nell'affrontare i Mangiamorte e Voldemort perché Neville ha perso tutto tutto per colpa dei Mangiamorte ed è molto dolce anche la scena della dell'incarto delle caramelle nuovo vuoto che la nonna dice buttala invece lo si la mette in tasca è bello è straziante ma ci fa capire quanto siamo fortunati per chi ha questa fortuna perché in realtà poi non tutti purtroppo la fortuna di avere ancora magari i genitori o di averli avuti è bello è un bel capitolo c'è poco da dire c'è poco da fare e ripeto è assurdo che nel film sia stato tagliato completamente perché poi ci sono altre scene che proprio sono stupide capito cioè a sto punto tagliami altre cose o non inventarti scene che non esistono magari e mostrami quelle che c'è nel libro bello bellissimo è un capitolo che che ti lascia un po' la mano in bocca però i libri devono fare anche questo i libri non devono essere sempre passeggiate o leggeri devono a volte tirarti dei pugni nello stomaco per farti ragionare per farti capire le situazioni che vivi o le situazioni che possono vivere gli altri perché immedesimandoci in Neville possiamo capire una realtà che se siamo fortunati non ci ha toccato o altrimenti se c'è se ci ha toccato possiamo capire che non siamo soli cioè nel mondo ci sono altre persone che cioè è bello è veramente veramente bello c'è poco da dire detto questo io vi chiedo scusa perché ho letto malissimo veramente male questo capitolo me ne rendo conto c'è stata anche Aru che un pochino l'ha disturbato ma Aru la perdoniamo me invece no ho letto male però vi ringrazio per essere arrivati se siete arrivati fin qui in questo che veramente rubo un sacco del vostro tempo libero detto questo mili e cavalieri io vi ringrazio veramente di cuore per essere stati qui con me e voglio sentire le vostre opinioni come sempre nei commenti e ci vediamo la prossima volta quando torneremo ad accomodarci sempre qui alla tavola rotonda di Reward 2 grazie a tutti